Tu sei l'unica persona che potrebbe ancora riconoscere il volto dell'uomo che ha sterminato le nostre famiglie. Ti ricordi cosa hai detto che avresti fatto dopo la morte di Ruth? Ti ho organizzato tutto. Devi seguire esattamente le istruzioni. Si chiama Otto Wallisch. Devi trovarlo. Devi ucciderlo. Passaporto. Noi siamo gli ultimi sopravvissuti. Si avvicini alla finestra. Chi è lei? La prego, non gridi. Cos'è un nazista? Una persona cattiva. Suo padre le parlava mai della Germania? Vuole scherzare. Era un collezionista. Vuoi continuare? Devo portarla a termine. La tua voce non è affatto cambiata. Le emozioni BIM non finiscono mai. A Natale, regalati DVD di storie da film. Filmi imperdibili tratti da grandi classici della letteratura. Val TB di storia. Ciao! Va. Ci è piedi? Le tammer. Le tammer. i v Предri. Alun segue? Grazie a tutti.